La scuola media a cocchia rischio sismico? Sì, forse, no, boh, sulla gestione della sicurezza dell'Istituto di Toro Cappuccini, l'ennesimo papocchio amministrativo. Questa volta ha giocato sulla pelle di una comunità di alunni e docenti, mentre solo pochi giorni fa il provveditore agli studi grano aveva sottolineato l'ipotesi trasloco per una scuola definita rischio sismico medio-alto. Il sindaco Foti aveva confermato la necessità di messa in sicurezza della scuola a tutela di alunni e corpo docente stamane l'imbarazzante dietro a fronte del comune, la preside Silvia Mauriello. Infatti, dopo aver incontrato i genitori e gli insegnanti presso la scuola di Toro Cappuccini, accompagnata da alcuni docenti a Palazzo di Città per rompere gli indugi e chiarire il rebus, dopo un primo incontro con il responsabile dell'edilizia scolastica, Rino Manso, la dirigente è stata ricevuta da sindaco e dall'assessore Preziosi. Quest'ultimo, in particolare, ha rassicurato la dirigente. La scuola media Cocchia non rischia il trasloco. Domani, anzi, sarà fisso davanti all'Istituto un certificato di idoneità dello stabile, un attestato di staticità superato negli anni. A vuoto il tentativo di addossare le colpe ai giornalisti sull'allarmismo creatosi in questa settimana, perché TV e giornali hanno registrato le dichiarazioni dei rappresentanti istituzionali seriamente preoccupati dalle condizioni di stabilità della Cocchia. Ci chiediamo perché è tanto caos. Sicuri che l'Istituto sia il più solido del mondo? Altrimenti il certificato di domani sarà per il Comune come metterci una pezza cosiddetta a colori. Ma su questioni così delicate non si scherza. Lo stesso primo cittadino si era chiesto due giorni fa come mai, da 2005, nessuno era intervenuto per rendere sicuro l'Istituto. Beh, ce lo chiediamo anche noi. Domani nella mattinata ci rilasceranno un documento e noi lo metteremo a fisso fuori e possiamo parlare in attesa della risposta di questo documento. Nel senso non c'è ancora una risposta chiara sulla messa in sicurezza o meno delle difficoltà? La nostra scuola è una scuola come tutte le altre scuole, a rischio medio-alto, perché nella provincia sono tutte le scuole della provincia che sono a questo rischio. Per adesso siamo in attesa appunto di questo, l'ufficio tecnico sta lavorando e ci darà una risposta entro la mattinata. E domani noi la mettiamo a fissa fuori. È stata messa in evidenza la cucchia perché dà fastidio a qualcuno, come le ho detto. Siamo i primi che porteremo l'Irpini a Roma come rappresentanza con l'inaugurazione dell'anno accademico. E può darsi proprio di sì. Grazie.